Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Paolo Spal 07, e anche oggi parliamo di Spal. Sigla! Spal Crotone 1-1, finisce così al Paolo Mazza, Spal che non riesce a fare 3 punti neanche questa volta. Partiamo dal principio della partita, la Spal ha fatto un primo tempo anche buono, se vogliamo, sotto il punto di vista anche dell'intensità e della tecnica, ci ha messo molto ed è riuscito anche a passare in vantaggio, finalmente si è sbloccato Paloschi, nel finale di tempo su una grande azione di Antenucci, purtroppo Borriello è dovuto scendere per un problema tecnico muscolare, speriamo nulla di grave, ne sapremo più nei prossimi giorni. Spal che appunto passa in vantaggio, sembrava anche amministrare bene, nonostante il Crotone fosse in campo, ha anche messo bene, ha avuto qualche occasione anche esso durante il primo tempo, ma comunque la Spal ha giocato, secondo me, un buon primo tempo. Quello che è stato un po' meno bello è stato il secondo tempo, nel senso che la Spal è rientrata in campo un po' contratta, un po' impaurita, ha lasciato troppo l'iniziativa nelle mani dei calabresi, specialmente nei primi 20 minuti del primo tempo, in cui il Crotone poi dopo ha trovato il pareggio Consimi, che in contropiede è riuscito a piazzare sul palo lungo, anche un bel gol, battendo appunto Gomis. Dopodiché la Spal, tanti errori di misura, confusionari in avanti, i cross non arrivavano, le palle centrali erano quasi tutte sbagliate e il Crotone, che già alla vigilia aveva detto di venire a ferrare a difendersi, si è difeso bene e ha portato a casa un onesto pareggio. Non hanno girato parecchie cose oggi, la prestazione è stata nettamente inferiore secondo me a quella contro il Napoli, appunto a partire dal, neanche tanto il primo tempo, il primo tempo è stato giocato anche bene, ma il secondo tempo no. A partire proprio dall'essere contratti, non riuscire a proporsi in avanti, confusionari, errori di misura abbastanza tanti e questa volta non ci siamo ragazzi, non è stato fatto un bel lavoro secondo me. Devo dare atto questa volta che comunque il reparto offensivo si è mosso bene perché comunque anche Paloschi si è sbattuto parecchio in avanti per cercare dei palloni, ha anche segnato un gol, però c'è senz'altro qualcosa da registrare dal punto di vista della mentalità. Troppo impauriti, non siamo riusciti a impostare neanche stavolta il gioco come volevamo noi, già come contro il Cagliari, è proprio una questione di mentalità secondo me, dobbiamo registrare la mentalità. Dobbiamo ancora calarci nella Serie A, dobbiamo ancora capire cosa vuol dire e dobbiamo ancora metterci qualcosa che al momento non abbiamo. Secondo me in Serie A serve qualcosina in più, specialmente in vista, adesso c'è la sosta delle nazionali, ma la prossima partita è a Bologna, nel sentitissimo derby contro il Bologna, che è una squadra che al momento è in formissima, ha vinto anche l'ultima partita contro il Genoa e quindi sarà una partita di un coefficiente di difficoltà elevatissimo per la SPAL. La nota positiva è che comunque un pareggio l'abbiamo strappato e che quindi le dirette inseguitrici hanno quasi tutte perso, a parte il Verona che ha pareggiato e quindi non abbiamo mantenuto le distanze, abbiamo anche allungato di un punto, però queste sono partite da vincere, secondo me, sono partite in cui devi fare tre punti, perché se non te la giochi con questi avversari qua, la salvezza diventa poi difficile, specialmente con questo tipo di partite qua. Io credo che in Serie A serva qualcosina di più, ma sono fiducioso sul fatto che possa arrivare, il campionato è ancora lungo, ci sono ancora tantissime partite da giocare e quindi noi dovremmo restare aggrappati con le unghie e con i denti fino all'ultimo minuto dell'ultima partita, perché la salvezza si conquista così, attraverso il gioco ma anche attraverso la sofferenza e quindi io credo che possa comunque arrivare questa salvezza, ma dobbiamo sudarsela fino alla fine e dobbiamo essere forti. Bene ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, condividetelo dove volete, scrivetevi nei commenti cosa ne pensate di questa partita e cosa pensate che serva alla SPAL per poter provare a conquistare la salvezza. Io vi ringrazio come al solito dei commenti che mi lasciate in ogni video e noi come al solito ci rivediamo ad un prossimo video. E sempre Forza SPAL!